Benvenuti benvenuti ragazzi a questo nuovo video su half minute hero Allora io avevo registrato un altro video però Praticamente è andato fottuto Quindi niente saltiamo qualche missione Premere un tasto qualunque Qualunque andiamo direttamente I dati sono stati caricati Allora ragazzi ho provato a mettere la grafica rinnovata Che è questa ma ragazzi vi assicuro che fa veramente cagare Quindi ritorniamo agli 8 bit E proviamo a proseguire l'avventura qui Di questo tizio Sono arrivato alla missione 6 Oltre la foresta Ho sconfitto Tipo un insetto Un'ape Un altro fatto Vabbè iniziamo e andiamo subito all'azione Vi ricordo che questo gioco consiste nel salvare il mondo In 30 secondi saltiamo tutto Adesso c'è fallegno Fallegno Sembrava un fallo di legno Bisbiglio 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 Lui mi ha dato il potere Vabbè sticcazza Saltiamo tutto E cominciamo subito l'avventura Livello 1 Cominciamo subito a Sconfiggere qualche mostriciattolo Tanto per alzare il livello Il countdown va inesorabile verso lo zero Qui c'è già la La tizia Cominciamo a comprare l'erba E un'ascia del bosco 130 gold Ok ce lo possiamo permettere Qui c'è uno scudo Pelta Sì penso che sia uno scudo E questo tizio Sto robinood dei poveri Sono un bardo Ah un bardo Non un asciere Dopodiché Comparso l'erba La foresta del male Negli ultimi tempi Ti faccio una proposta Se hai paura di procedere La torre Ti posso accompagnare Fino al prossimo villaggio E ovviamente vuole i soldi 300 g E la madonna Vabbè 300 g si possono fare Possiamo fare così E ci facciamo un pochettino Di Di esperienza Mi ricordo che i combattimenti Sono tutti assolutamente automatici Andiamo nella foresta Magari esce qualche mostriciattolo Un po' più potente E infatti E andiamo subito qui A 2 secondi e 42 Preghiamo la mignotta del tempo Che per Soldi Perché È una Bastarda Allora Per soldi ci dà Allora Ingaggiamo Richard Col suo cane Ok Richard il cane Ingaggiati Io vorrei comprare A 130 gold Questa pelta Qui Non so cosa sia Ah praticamente Manda il cane Cioè tu non fai nulla Ottimo Ma quanto costava La pelta 130 Ok 130 gold Adesso questa stroza Vuole 200 gold Per resettare Quindi 106 Vediamo se ci riusciamo A forza Ci dobbiamo riuscire Abbiamo 7 secondi Per riuscire Ad arrivare ai 200 Ok Abbiamo 6 gold Continuiamo l'avventura Adesso abbiamo Il cagnolino E il tizio Ah i punti vita Ragazzi Porca miseriaccia Ok io mando avanti Loro perché Posso chiederti una cosa Intenzione di affrontare Ma sto giusto Scrivendo una canzone Ma che Ma cosa Ma che balle Ok qui I mostri si fanno Sempre più tosti Fortunatamente Um Hai incontrato Il re Wow E poi Vabbè Questo mi ha rotto Già le palle Ma stai zitto Mamma mia Quanto parla Addio No Ragazzi Cioè Perché niente Ha fatto tutto ciò Questa vuole 300 Stavolta Vabbè Punti vita Al massimo Non so il perché Parliamo con questo tizio Parliamo con quest'altro La foresta è popolata da mostri Ok Senza andare a Ok Io sono diventato Ultra potente Adesso Arriviamo Al limite Del tempo Perfetto Per andare A pregare Anche se Non mi dispiacerebbe L'erba Ok Un minuto È un secondo e 92 Ci sono andato Proprio al limite Punti vita Oddio Spendere 50 gold Però mi serviva L'erba Porca miseriaccia Vabbè Andiamo ad affrontare Il lord Bisbiglio 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 Ok Questi mi sono fatti Tranquillo Proprio Ma il lord Proprio Ci sono arrivato Strapotente E quindi Ce lo siamo Proprio L'abbiamo mandato All'inferno In segheria L'abbiamo mandato Missione compiuta Saltiamo tutti i convenevoli Finito il gioco Come sempre E ma noi andiamo avanti Seguente Salvataggio Come al solito Upload Delle statistiche La classifica online Che poi non so dove si va a vedere Ma da qualche parte Dovrà stare E dai Che palle Sto fatto Dai su Su Dai 30 Ci vogliono 30 secondi Per fare tutto Però Invio dei dati Della classifica in corso Sei inchiodato Ma ti pare A te Che si deve bloccare Il gioco Mentre io Faccio il video Ma chi se ne fotte Di sta classifica Ma dai Fail Un fail Dopo l'altro Ma ti pare A te Che io Devo essere Bloccato Per l'invio Dei dati Alla classifica in corso Vabbè Mentre è bloccato Facciamoci due chiacchiere Allora Di cosa possiamo Parlare Guardate L'imbarazzo Proprio totale Ok Il gioco si è praticamente Bloccato Per questo invio Dei dati Della minchia Alla classifica in corso Ok Si è sbloccato Meno male Vabbè Fannculo Comunque ragazzi Questo era un gameplay Prima di Uscire Quindi l'ho registrato Al volo Ma lo carico comunque Sono 5 minuti Quindi Almeno Anzi Ditemi se volete Gameplay più corti O più veloci Magari Così facciamo video Un pochettino più brevi Direi che possiamo Fermare qui Quindi ci vediamo E parecchie persone Mi hanno detto Che è carino questo gioco Come sempre Io vi invito A commentare Mettere like Se volete Condividere E soprattutto A dirmi Se vi piace Questo gioco Se continuarlo O meno Ciao